Città metropolitana Non solo vede un'attenzione alle attività che nel territorio hanno poi uno sviluppo importante e innovativo in questo periodo e quindi è anche uno sguardo al futuro ma soprattutto permette ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di formarsi e di trovare poi lavoro come dimostrano i dati che dicono che l'80% di chi frequenta questi corsi dell'ITS ha poi la possibilità di trovare un'occupazione. Ecco in un momento come questo di grande difficoltà sia per le scelte formative che per l'occupazione credo che questa alleanza sia molto preziosa ed è la prima volta che presentiamo questo percorso ma con l'obiettivo di renderlo poi strutturato nella nostra attività e quindi davvero importante per l'orientamento, per la formazione e per il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.